Musica Cari amici delle spettatori di San Marino Channel, un buon pomeriggio da Axel Paderni. Ci troviamo poco fuori confine nel comune di Monte Grimano, lo ricordiamo, un comune comunque con una storia e una vocazione turistica che sta vedendo un rilancio. Quindi rimanete collegati e scopriamo tutte le novità. C'è raggiunto il primo cittadino di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, una comunità e un comune comunque che sta cercando un rilancio turistico e soprattutto una nuova via dopo alcuni anni di fermo. Diciamo che Monte Grimano nasce con una vocazione turistica, dobbiamo riprenderla, portarla a una fase nuova, a una sorta di 2.0 anche legato a tutto quello che è il green, a tutto quello che è la voglia di benessere e di slow che la gente ha in questo momento. Adattarla al 2023 da qui in avanti e tornare a correre verso un mondo, quello turistico che è la base dei nostri territori. Un'offerta indubbiamente che guarda molto le famiglie ma anche il turismo degli stranieri, comunque un'offerta che è assolutamente completa anche da un punto di vista gastronomico ma anche da un punto di vista di rilancio sportivo. Ma oggi il mondo nuovo o meglio quello che il turista cerca è calma, serenità, servizi, un buon mangiare perché quello è la base un po' anche della terra nostra, marchigiana romagnola, siamo proprio posizionati dove il food è un elemento basilare. Ecco, a Monte Grimano Terme questo c'è, abbiamo la possibilità di fare e-bike, 50 più chilometri di percorsi, abbiamo la nuova piscina che è dove siamo proprio oggi, abbiamo la possibilità di goderci l'aria buona. Qua si riesce a dare il 100% di quello che in questo momento è di gradimento del turista. Ricordiamo lei comunque è in carica da 4 anni, penso che in questo periodo abbiamo vissuto anche il periodo del Covid che non è stato assolutamente facile ma secondo lei dove può essere Monte Grimano magari tra 5 anni? Io credo che è intanto sulla strada giusta, quindi stiamo lavorando per poter diventare il punto di riferimento di quello che è un'offerta turistica ma un'offerta allarga un po' oltre al turismo che per noi ripeto è l'asse portante di quello che è il prossimo sviluppo, c'è anche un effetto proprio demografico. Cioè creando i servizi siamo convinti di poter invertire quella tendenza che purtroppo colpisce un po' tutti i piccoli borghi dello spopolamento. Ecco, Monte Grimano Terme fra 5 anni potrebbe essere il punto di riferimento anche in questo, capire quello che è stato fatto in una comunità come questa e cosa si può replicare in altre comunità che hanno problemi simili. Un punto di riferimento, se dovessi riassumere, Monte Grimano fra 5 anni lo definirei appunto un punto di riferimento. Il comune di Monte Grimano è comunque adiacente alla Repubblica di San Marino, si sono pensati a comunque anche delle sinergie per cercare di ampliare eventuali collaborazioni? Monte Grimano Terme e la Repubblica di San Marino hanno da sempre un rapporto privilegiato, siamo l'ultimo comune marchigiano prima di entrare appunto a San Marino, siamo una terra di confine che vede, ospita quotidianamente tanti sanmarinesi venire a Monte Grimano e San Marino ospita tanti montecrimanesi che vanno a lavorare tutti i giorni a San Marino. C'è un dialogo da sempre, in questi anni ancora più proficuo, l'abbiamo visto durante il Covid con gli accordi, chiamiamoli bilaterali, che abbiamo preso come Comune di Monte Grimano Terme e la Repubblica di San Marino e credo che entrambi siamo sintonizzati su quello che è la collaborazione, la cooperazione ma ancora di più una visione di territorio e di strategia futura quanto mai comuni, ben tenendo presente che vi è una differenza tra uno Stato e un Comune. Nonostante questo il rapporto è quello veramente di amicizia, di profonda amicizia e stima erciproca.